Ecco, ed è stato recentemente nominato capogruppo. Sì, è giunto a scadenza triennale il vecchio Consiglio e il 22 dicembre si sono tenute le nuove elezioni del nuovo Consiglio e conseguentemente anche, diciamo così, del capogruppo. I vecchi consiglieri hanno visto nella mia persona, diciamo così, un referente adatto a assumere questa carica, anche se ho cercato di resistere un attimino e far sì che qualcun altro desse la propria disponibilità, ma di fronte così a un diniego generale mi sono sentito in dovere di accettare questo incarico. Un incarico molto importante di un gruppo che, come numero di soci, è il quarto gruppo nella Bergamasca, un gruppo che sul territorio, nella comunità di Clusone ha dato tanto e speriamo di riuscire a portare avanti anche solamente un po' di quello che è stato fatto in anni precedenti. E questo è anche un momento particolarmente caldo dal punto di vista delle attività. Sì, il mese di gennaio ci sono alcune, diciamo così, manifestazioni. Incominciamo con sabato, la festa di Sant'Antonio Abate, con la benedizione degli animali e degli autoveicoli. È una vecchia tradizione che risale al tempo del Medioevo. In Clusone abbiamo proprio una cappelletta giù in via Brescia, ristrutturata dagli alpini e tutti gli anni ricordiamo questa ricorrenza. Nella stessa giornata, alla sera, festeggiamo il gruppo, la nostra festa sociale, con la messa in parrocchia e seguirà poi il pranzo alla bussola in via Brescia. Sabato 26, invece, ricordiamo il 76esimo anniversario della battaglia di Nicola Jesca, sempre alla crocetta al cimitero, dove sono invitati tutti i militari, le autorità civili e militari e quanti hanno a cuore questa ricorrenza. Poi invece a febbraio, il 10 febbraio, c'è il trofeo Sora, trofeo Sora che si svolge sulle nevi, neve permettendo, dagli spiazzi di Boario. Ricordiamo che è una staffetta alpina, ogni squadra è composta da tre concorrenti. Si inizia con la frazione di fondo, segue la frazione in salita e ultima la frazione in discesa. Anche questa è una manifestazione molto bella, simpatica, invitiamo tutti a partecipare. E poi in prospettiva state lavorando anche all'organizzazione del raduno sezionale, qui arriveranno tutti gli alpini bergamaschi. Sì, il gruppo di Clusone unitamente ai gruppi della zona 17, parliamo dei gruppi dei comuni dell'Alto Piano, cito Castione, Rovetta, Fino, Son Gavazzo, Cerete, Onore. E organizziamo la 36esima adunata sezionale e in quei giorni verranno tutti, diciamo così, invitati tutti i gruppi della Bergamasca, gruppi degli alpine a partecipare. Ci saranno quattro giorni di manifestazioni, cominceremo il 5 settembre, il 5 giovedì, venerdì, sabato, con la corteo che dalla casa di riposo, dall'albergo Sant'Andrea fino al monumento e poi la messa in basilica e la domenica con l'ulteriore manifestazione del rancio alpino. È una manifestazione che impegnerà non solamente il gruppo di Clusone, ma tutti i gruppi degli alpini dell'Alto Piano, della nostra zona 17. e anche in questo caso invitiamo la popolazione a partecipare, a farsi attiva a questa manifestazione.